È un giocatore al quale ha voluto molto bene sicuramente, è stato un riferimento per me ma soprattutto per i suoi giocatori. Lui era già prima ma soprattutto per quel tragedio che ci ha colpito e che ho provato a far sì che fosse ancora con noi sì. Dopo lui ha fatto altre scelte e noi poi ne abbiamo fatto altre scelte. Mi fa piacere ritrovarlo perché era un giocatore al quale credo di aver dato qualcosa ma dal quale ho sicuramente preso qualcosa.